E' stata aperta un'inchiesta sulle RSA di Montevarchi e Bucine che complessivamente hanno visto 26 vittime. Le ipotesi di reato vanno dall'omicidio colposo plurimo alle lesioni colpose plurime fino alla violazione della normativa anti-infortunistica per i dipendenti. Il fascicolo resta nelle mani del procuratore facente funzione Luigi Bocciolini che poi lo passerà probabilmente a un PM del Palazzo di Giustizia di Arezzo. E' stato aperto a modello 44 quindi quello dei reati contro ignoti ma con ipotesi d'accusa abbiamo detto precise e non più solo come era all'inizio un'indagine conoscitiva. E riunisce tutti gli esposti che sono stati presentati sulle due strutture ricordiamo 15 morti a Montevarchi almeno alle 14 di oggi e 11 morti a Bucine. Per gli esposti si tratta dell'esposto del comitato delle famiglie della RSA di Bucine, quello del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai per la casa di riposo montevarchina e ancora un esposto di famiglie singole, di dipendenti e ci sono persino degli esposti anonimi. Dunque il Palazzo di Giustizia di Arezzo, la Procura di Arezzo vuol fare chiaro su quanto accaduto e verificare se ci sono eventuali responsabilità per le morti di anziani che erano risultati tutti positivi al Covid-19.